oggi preparerò pasta con le sarde ho messo nella rettangolare la pasta cruda e il sugo con le sarde vado a ricoprire con l'altro sugo e vado ad ultimare la mia teglia perché la pasta con le sarde cuocerà direttamente sul fornello quindi ricopro tutto e poi accendo la fiamma adesso che ho messo tutto il condimento nella pasta vado ho aggiunto la mollica tostata sopra e vado a coprire con il mio ottimizzatore e accendo a fiamma alta per 5 minuti tra i 5 minuti abbasserò la fiamma sono passati 5 minuti vado a controllare e già la mia pasta sta cuocendo quindi ricopro abbasso la fiamma lascio cuocere 15 minuti e poi spegnerò e impiatterò ed ecco che la pasta con le sarde è pronta grazie alla prossima video ricetta se questo vi è piaciuto lasciate un like ciao ciao alla prossima